Ciao a tutti, io sono Ambra e benvenuti in un nuovo episodio di Le cose da non dire a una donna che non ha figli. Se ti piace questo format, iscriviti, commenta, lascia un like, fai tutto quello che devi. Partiamo con il video! Come sempre ricordo che questo format non vuole offendere nessuno, sono semplicemente dei fatti realmente accaduti. Ambra, ma la casa che hai insieme a tuo marito, ma è vostra di proprietà, vero? Sì, sì, l'abbiamo comprata qualche annetto fa, sì, ed è stupenda. Che peccato però, veramente è un peccato. Scusami, non ti sto capendo, che cos'è un peccato? È un peccato perché vedo che voi non avete figli e a chi la lascerete tutta questa eredità? È un peccato. Scusami, fammi capire, cioè è un peccato che io e mio marito abbiamo una casa, ma fammi capire. C'è bisogno per forza di avere un'eredità. E se domani me la vendo tutto, io mi vendo tutto e me lo mangio alla faccia tua, perché non ti fai mai i cazzi tuoi? Com'è brutta l'invidia, vero? Fatevi cazzi vostri, perché non sapete chi avete davanti e i progetti che hanno. Quindi, shh!